L'iniziativa nasce da un bisogno sostanziale che è quello di ribadire la necessità che i diritti di tutti i cittadini trovino spazio nell'informazione e soprattutto anche che l'informazione sia tutelata come strumento di democrazia fondamentale per il nostro Paese. Lo abbiamo fatto riunendoci come associazioni, come tante associazioni che rivendicano un diverso rapporto con la stampa e lo abbiamo fatto mettendoci in rapporto con l'associazione della stampa Sarda e con l'ordine dei giornalisti perché ci sia un'interazione tra queste associazioni e il mondo della stampa perché migliori complessivamente la rappresentazione della realtà italiana e stampa. Noi diciamo che il mondo dell'associazionismo non è tanto la necessità di pubblicare alcuni comunicati stampa delle associazioni che servono a cosa ridicola, è minimale. Il problema vero è che le associazioni sono portavoci, portatrici di valori della società che spesso non trovano cittadinanza nei quotidiani. Noi chiediamo alla stampa, a tutta la stampa, radio, televisiva, stampate eccetera, di prestare attenzione alle associazioni perché sono rappresentative di una fetta importante della società. Ecco qual è il legame e qual è l'interazione che ci deve essere tra questo mondo dell'associazionismo e la stampa. Credo che il primo risultato importante di questa riunione sia intanto che le associazioni sono riconosciute, aggregate e hanno elaborato un progetto comune da presentare agli organismi della stampa. Questo perché spesso succede che ognuno si muove autonomamente, indipendentemente guardando la propria settorialità e non rendendosi conto che invece molti problemi sono comuni. Allora noi vogliamo dare l'idea di questa comunanza dei cittadini intorno ai grandi problemi e la vogliamo dare, dobbiamo rappresentare agli organismi di stampa. Ci saranno altre iniziative future? Io mi auguro di sì perché ovviamente non basta un incontro per definire questi livelli di conoscenza. Noi ne auspichiamo altri e auspichiamo anche che la prossima riunione degli stati generali dell'informazione che otterranno il 6 e il 7 di dicembre ad Alghero accolgano questi suggerimenti che noi abbiamo avuto.